Vestiti da salumieri si erano presi gioco dell'ufficio postale che avevano rapinato già due volte. La terza volta non verremo perché troppo rischioso, buone vacanze, ma nel frattempo sono stati scoperti dai carabinieri della compagnia trionfale. Sono stati arrestati due rapinatori che nel novembre 2023 e nell'aprile 2024 avevano fatto irruzione nell'ufficio postale di via Grotta Rossa portando via circa 300 mila euro. L'accusa nei confronti di entrambi è quella di rapina aggravata. I due rapinatori in entrambe le occasioni avevano cercato di nascondere la loro identità con mascherine chirurgiche, occhiali da sole e guanti, indossando un camice bianco tipico dei salumieri. A tradirli sarebbe stato un tatuaggio tra il pollice e la mano sinistra di uno dei malviventi. I due rapinatori, proprio in occasione dell'ultima rapina d'aprile, dopo aver costretto il direttore ad aprire la cassaforte, avevano esclamato prima di fuggire la terza volta non verremo perché troppo rischioso, buone vacanze. Alla fine in effetti è risultato così troppo rischioso, ora i due sono finiti in carcere.